Dopo aver letteralmente scritto la storia della Serie B con il proprio record di vittorie consecutive, una striscia di ben 11 vittorie consecutive, quelle conquistate dalla squadra del Parma Calcio, e a soli 90 minuti dalla fine di questo campionato di Serie B 2023-2024 il Parma probabilmente non è ancora matematico ma purtroppo dice addio ai sogni di gloria per quanto riguarda lo spareggio per l'approdo in Serie A. Lo fa rimediando una sconfitta davvero molto difficile da digerire sul proprio campo, tra le proprie mura, quelle del Noce di Noceto, contro il Chievo Verona. Una sconfitta per 1-0 contro l'ex di turno, il mister Fabio Ulderici, che lo scorso anno era inizialmente a inizio stagione proprio alla guida della squadra del Parma. Una gara molto difficile quella di oggi, una gara perfetta quella disputata dalle avversarie che non hanno dato un momento di respiro alla squadra del Parma, la quale ha dovuto veramente sudare le proverbiali sette camice, sia da un punto di vista del gioco dove è stata marcata uomo a tutto campo, sia per provare ad inventare qualcosa. Qualche conclusione, una partita in cui veramente l'agonismo l'ha fatta da padrona e dove gli spazi sono stati pochissimi. Nel primo tempo la formazione allenata da Colantuono è stata brava, bravissima nel possesso palla, ma molto sterile da un punto di vista di occasioni create. Nel secondo tempo, buttandosi completamente in avanti per cercare il gol della vittoria, perché quest'oggi serviva solo questo, una vittoria, la formazione giallo-blu è ovviamente stata oggetto di ripartenze per quanto riguarda la squadra del Chievo Verona, che al ventottesimo del secondo tempo ha trovato con picchi proprio su una ripartenza, su un ribaltamento di fronte, questo gol dell'1-0 che poi è stato determinante per il risultato finale. Pochi minuti più tardi c'è stata una traversa da parte di Gago, un rigore fallito al novantesimo per Di Luzio, c'è stato anche un, poco prima, un gol annullato per il Parma, ma quel che conta è che quest'oggi sicuramente la squadra di Colantuono poteva e doveva fare di più, soprattutto in avanti, dove la solita, diciamo, energia, il solito entusiasmo sicuramente è mancato. Colantuono ha fatto di tutto per provare a segnare, ha messo tutte le sue pedine in campo, quindi Di Luzio, Di Stefano, Loner, ovviamente era già presente Gago, era presente Ferin, le ha provate davvero tutte, ma purtroppo nessuna carta ha dato i propri frutti. È stata una gara, come dicevo, molto difficile, soprattutto poi dal punto di vista psicologico, nel momento in cui la squadra di casa è andata sotto l'1-0, ma c'è stata anche una forte reazione, una forte reazione che purtroppo questa volta non ha portato a ribaltare il risultato. Da qui ora la faccenda si fa molto, molto difficile, quasi impossibile, servirebbe assolutamente un miracolo, perché domenica prossima, quindi tra sette giorni, il Parma se la vedrà a Roma con la Lazio, ma ora il punto cruciale è che la Ternana, avendo ottenuto un'importante vittoria quest'oggi, ha superato il Parma nuovamente e si trova ora a più tre. E la prossima gara andrà a San Marino in una gara più che abbordabile e con un entusiasmo sicuramente alle stelle. In attesa di miracoli, che sono comunque sempre possibili e sappiamo benissimo che nel calcio tutto può succedere, io ci tengo personalmente a fare un grandissimo, un gigantesco, veramente, in bocca al lupo sicuramente, alle ragazze del Parma e al mister Colantuono, ma i miei personali complimenti, questo con tutta la sincerità massima, a una squadra e a un mister, insieme sicuramente al suo secondo e a tutto il suo staff, che quest'anno hanno realizzato un vero e proprio miracolo sul campo, questo sicuramente lo posso dire, perché quella che era rimasta lo scorso anno, quelli che insomma avevamo visto lo scorso anno, e quello che abbiamo visto quest'anno è qualcosa di straordinario, sicuramente l'anno scorso a fine stagione ci trovavamo con una squadra, possiamo dirlo giornalisticamente, da un punto di vista giornalistico posso poter permettermi di dirlo a pezzi, assolutamente a pezzi, da tutti i punti di vista, e ci siamo ritrovati quest'anno con una squadra fantastica, unita, che veramente ha saputo dar tutto, dove le ragazze erano molto, molto, molto affini, dove le ragazze si sono volute bene, è stato toccante vederle oggi a fine partita, è stato veramente emozionante intervistarle, è stato anche molto difficile, diciamo che questo è mancato lo scorso anno, e io veramente faccio i miei personali complimenti, le mie congratulazioni a questa squadra, perché qualunque sia il risultato finale, mi hanno veramente fatto divertire, mi hanno emozionato, hanno avuto un grandissimo cuore, e credo che il cuore sia la cosa più bella di tutte. Grazie.